ciao a tutti eh siamo qui con il rappresentante eh della Corea del Sud eh che è stato scelto quest'anno per la seconda edizione del concorso internazionale di ocarina eh e si tratta del maestro eh in italiano lo chiamiamo amichevolmente Carlo ma si chiama Kimuk e ho avuto la fortuna di conoscerlo diversi anni fa è un grande amico è una persona molto cara e quest'anno sarà come ho detto prima il rappresentante per la Corea del Sud della commissione del concorso bene bene Volevo chiedere a Kimuk una cosa per noi molto importante. Cosa pensa lui di questo concorso in prospettiva futura per lo strumento, cioè per l'Ocarina, e soprattutto cosa pensa di questo concorso rivolto ai giovani? Ovviamente può anche rispondere in relazione a tutte le altre età, nel senso che è un concorso strutturato con determinate e diverse categorie, una in particolare, che poi ne parleremo dopo, della sezione A solisti. Volevo chiedere a Carlo cosa ne pensa di questo concorso per il futuro dell'Ocarina. In particolare, in particolare, in particolare, La categoria A parte, in particolare, la categoria dell'Ocarina in particolare, si come in concorso con concorso, in particolare, in particolare, in particolare, si come in concorso, l'Ocarina di migrere di migrere, si venneria qualcuno, questa situazione alla dimostrazione di Dio. Sì. Sì. Ma, Ocarina è molto divertente, e molto divertente, quindi i ragazzi sono sicuri che non sono più importante in questo caso. Come hai detto prima, ci sono tre categorie. C'è la categoria A, Solisti, con un programma ben stabilito, molto impegnativo, ed è quella, la categoria più, non dico più importante, però più quella selettiva. Poi abbiamo una categoria B, sempre Solisti, aperta comunque a tutti, come poi è aperta a tutti anche la categoria A. La categoria B è differenza che c'è un programma libero, quindi di conseguenza uno può iscriversi con un repertorio a piacere. Poi abbiamo un'altra categoria importantissima dei gruppi da camera, dal duo fino a arrivare al settimino, con dei premi speciali, ammesso che ci sia un buon settimino, e magari anche dei gruppi più allargati del settimino. Insomma, ecco. Cosa pensa lui a riguardo di questa struttura del concorso? Come è stata pensata? E soprattutto anche la categoria C, cioè quella dei gruppi da camera, anche questa creata per dare spazio a tutti, soprattutto per valorizzare la musica da camera con Locarina, e anche cercare di stimolare i gruppi, cioè i settimini della tradizione nostra italiana. Cosa ne pensa di questa cosa? E che consigli dà lui ai coreani per potersi iscrivere? Come sui poi, in questo caso, con il nostro concorso in Italia, la categoria C dove ci sono la loro parte, la categoria B e la loro parte. la loro parte, anche la categoria C in questo caso, gli altri che ci sono attraverso la loro parte. Grazie a tutti. 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 e i video anche per il suo video. Quindi se si è registrato, se un uccideri in Italia, e poi andiamo a Iteria, e poi andiamo a Iteria. e i uccideri a i uccideri. E anche se a Iteria, non vogliamo fare l'operazione, non lo so, non lo so. Sulla base di questa cosa qua, volevo invitare Carlo a esprimere così un saluto a tutti e un incoraggiamento, che non si abbia paura del Covid, ma con sempre tutte le dovute precauzioni cercare di trovarsi lo stesso, perché la musica non si può fermare di fronte a questa situazione. In ogni caso dobbiamo riuscire tutti insieme a uscirne da questa cosa qua. Ovviamente sempre con tutte le precauzioni del caso, senza rischiare, insicurezza. Quindi un saluto di incoraggiamento da parte di Carlo, anche su questa cosa qua. Sì, non c'è un problema in 우리나라, ma non c'è un problema, perché il coronavirus è molto difficile, ma anche in questo caso, in questo caso, in questo caso, non c'è un problema, ma anche in questo caso, in questo caso, in questo caso, di un problema, ma anche in questo caso, in questo caso, anche in questo caso, tutti i nostri i nostri amici. Grazie a tutti. molto bene Carlo molto bene Kimuk è stata una cosa molto bella vi ringrazio tutti ringrazio Kimuk ringrazio te Vittorio di questa collaborazione del tempo che ci avete dedicato vi auguro una buonanotte a voi e io vado a lavorare adesso ok ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti